Gianno rimane con noi perché dobbiamo tributare il giusto anche a una band a cui teniamo molto e che se siamo quelli che siamo lo dobbiamo anche a loro a George, Paul, John e Ringo volevo dirvi in ordine ma non ce l'ha fatto vengono a darci una mano Christian, Reignicoli Cristian Reignicoli eccezionalmente al basso per noi che sostituisce temporaneamente l'ottimo Mr Lucky da Civitanova il nostro amico Cristiano Orlandi contatto di basso vintage l'ottimo Franco Sgattoni ottimo leudia in senso di saporito e altre due new entry oltre a Cristiano e Cristian abbiamo il buon Francesco Anzilino la chitarra si è amato anche tu un motivo ci deve essere la famiglia Sgattoni abbiamo Fabrizio abbiamo Franco ma abbiamo bisogno di Gianfranco Sgattoni grazie Grazie. Questo momento per me è emozionantissimo. Un altro applauso a Gianfranco Sgattoni. Lui crede di essere fuori contesto, ma in realtà è in famiglia anche qui. Vai. Un omaggio a George Harrison. Lui crede di essere fuori contesto, ma in realtà è in famiglia anche qui. Lui crede di essere fuori contesto, ma in realtà è questo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti